Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi e collegare completamente un controller, anche qualsiasi, non solo della Xbox 360, ma qualsiasi controller grazie all'applicazione che tu hai lasciato in descrizione, c'è chi ha riuscito a scaricare questa applicazione però non riesce a configurare al meglio questo controller perché non si connette proprio al PC quindi in questo caso scarica l'applicazione emulatore del controller Xbox 360, per me come ho detto funziona con qualsiasi controller basta che noi selezioniamo il dispositivo che si è connesso al nostro computer una volta connesso in descrizione ti ho lasciato pure un link del net framework 8.0 desktop runtime Windows 64 install questo qua lo devi scaricare e installare per far funzionare così il processo dell'applicazione quindi ovviamente una volta scaricato il pacchetto RAR, perché questo è un pacchetto zip, devi estrarlo con WinRAR quindi vai su Chrome, scarica anche WinRAR per estrarre i file zip ok, una volta estratto, io ovviamente già avevo estratto così la cartella ecco l'X360, io ci clicco sopra ed ecco così la nostra configurazione ovviamente un attimo che faccio tutto rimuovi per fare tutto da capo quindi ovviamente se io vado su AD, questo qua mi inserisce così i dispositivi connessi al PC quindi in questo caso io adesso provo a collegare un qualsiasi controller anche se non è Xbox, però il controller ovviamente me lo verifica me lo risulta come Xbox 360 controller uso la chiavettina wireless eccola qua allora connettiamo così il dispositivo ok, connesso chiudo un attimo l'applicazione l'apro di nuovo the game controller eccolo qua eccolo qua allora la periferica qui connessa controllo USB controllo se non dovesse funzionare tu vai direttamente su configura dispositivi di gioco USB ed eccoli qua, periferica di gioco eccoli qua, impostazioni facciamo questa guida periferica gioco ovviamente provo, ecco come puoi vedere il più sul quadrato qua si muove faccio avanti e faccio anche fine ho fatto così pure il test e faccio app che faccio ok vado su avanzate ed eccolo qua cliccate su un controller qualsiasi controller USB controller e mettete il vostro controller eccolo qua se non dovesse funzionare vai su un attimo su gestione dispositivi questo è su come connettere così il controller al PC ed eccolo qua, periferiche Xbox 360 come puoi vedere questo qua è una periferica che ho creato virtualmente sull'Xbox 360 l'applicazione e questo qua invece è direttamente il controller questo qua, la porta USB quindi se non dovesse funzionare questa qua periferica Xbox 360 tu devi direttamente andare su proprietà vediamo un attimo su questo proprietà driver aggiorna driver cerchi il driver nel computer scelto un elenco di driver disponibili eccolo qua e installi questo Xbox 360 per Windows puoi anche connettere un controllo della PS4 e PS5 a questa applicazione se non riesce a connettere anche il controller della PS5 c'è l'applicazione DualShock DualShock 4 che funziona sia per PlayStation 4 che PlayStation 5 quindi chiudo qua e adesso non ci resta che configurare il nostro controller quindi su questa applicazione noi possiamo anche aggiungere un gioco quindi attraverso il gioco noi possiamo usare questa applicazione e il nostro controller quindi io adesso collego così questa periferica e faccio aggiungi e abbiamo selezionato così il mio controller quindi come puoi vedere se io adesso muovo il controller come puoi vedere qua sopra si muove ok? si muove si muove anche il B, A, X e Y per configurare tu clicca qua sopra il pallino rosso e premi Y e qui su Y si crea così il pulsante lo stesso qua sopra faccio così faccio così questo invece non me lo faccio così e faccio così lo fai veramente cioè lo fai e lo setti su tutti i tasti ok? anche su Start e faccio Start eccolo qua una volta fatto tienilo così fermo e aggiungiamo pure un gioco ovviamente io adesso aggiungo il gioco appena uscito che si chiama Palworld eccolo qua e faccio Apri ed eccolo qua caricherà tutti i file ed eccolo qua Palworld e io adesso lo avvio direttamente su questa applicazione faccio Salva tutto e facciamo Start avvio così Palworld attraverso l'applicazione Steam non è lanciato un attimo che avvio pure Steam ok eccolo qua e facciamo Start e avvio il gioco attraverso questa applicazione Xbox 360 Controller ovviamente se hai altri problemi commenta sotto al video e adesso non ci resta che vedere se funziona tutto ok funziona inizia a giocare e giochiamo quindi per altri problemi riguardo al controller mi raccomando commenta sotto al video per farmi capire che problema riscontri sul controller così facendo potrò aiutarti eccolo qua quindi i tasti funzionano tutto funziona il controller è connesso come ho detto puoi anche collegare un controller della PS4 PS5 anche un controller della Switch funzionano oppure attraverso cavo bluetooth wireless come sto facendo io quindi se questo video ti è stato utilissimo su come configurare connettere un controller qualsiasi manca un controller PS4, PS5, Xbox 360, Switch iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao